e ciao a tutti ragazzi sono anche su roblox allora mi sono chiesto ma fortnite visto che tipo c'è anche su roblox cioè c'è una modalità simile a fortnite su roblox e ho trovato sta roba andiamola a scoprire insieme va bene bel personaggio come vedete l'ho cambiato si però non mi dire che sono povero lo so ok ragazzi questo sarebbe fortnite tycoon tycoon funziona molto strano allora si devono raccogliere tipo soldini tanti bei soldini da qua ecco tutti venti qua raccogli bei soldini per fare una mega casa come le altre persone qua e comprarti le armi per distruggere tutti bello quindi iniziamo allora arriviamo subito a 100 e ci facciamo un power dropper così guadagniamo subito di più adesso ce ne facciamo quanto ce ne vuole per l'altro 250 dammi più monete fai schifo mi scusi lei pure lei mi dia monete la prego cosa tocchi cosa tocchi ovviamente sti personaggi tutti in giro vogliono ucciderci quindi dovremmo chiudere i muri costa 400 un muro questo è un problema tanto prendi 300 250 vai così guadagniamo di più che fai tu cosa tocchi signorina signorina perché sei bloccata per un istante i love cats am i gatti a che mi piace i gatti valla a dire al mio gatto che mi uccide sempre 589 costruisci un passaggio perfetto guadagni a cash velocemente cosa devo fare per prendere sto coso devo spendere 200 robux ma va 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 non le avrete mai i miei soldi ok costruiamo un muro oh ora ci siamo muro costruito vai raccogli più soldi che dobbiamo prendere un altro drop ma ancora non ho capito queste a che servono aiuto ah ok pensavo di stare entrando in un portale magico ma non posso prendere i soldi dell'altra ragazza ma questo è un due giocatori la stiamo costruendo insieme la casa perché non posso prendere i suoi di soldi ok dove sono le armi così magari posso essere una brava persona poi se non sbaglio se io attacco le altre persone per se posso prendere i loro soldi giusto o sbaglio vai compriamo un gear eccoti abbiamo comprato la prima arma che sarebbe una pistola che non è neanche forse quella di portale però noi la prendiamo come si fa a prendere l'ho presa l'ho presa uccidi gente ah tra l'altro posso fare così no fermo ah quindi il mio maestro è diventato appuntatore spara qualcuno spara ah l'ho ucciso ma non è giusto come si permette lei ma ma che mi spara in mezzo al muro ma che vuole questo dannato scar questo è fortemente tycoon mamma mia taccia sparà beccalo beccalo l'ho ucciso ah 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 justice cioè ma tu puoi colpire da questa distanza fammi capire sono morto perché amo io sempre nel scioglio oh è niente ufficiale sta cosa nel giochi quasi io sempre prendi la pistola uccidi quello guarda tactical tactical esci 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 uccidilo uccidilo ucciso ho 4000 posso comprarmi Allora Ma che vuoi Ah ma ci possiamo uccidere A quanto pare si Mi scusi Mi scusi Non volevo Ma chi è Questa è casa mia Che ci fai qua tu No non è possibile Fuori da casa mia Ecco Ora dammi questo magari che lo prendo Niente non me lo posso prendere Allora compriamo immediatamente questo mega dropper Così faccio più big soldi E facciamoci pure il grande muro E posso costruire il piano di sopra Wow Compri il secondo piano Bravo Salta Ok Mi ha posto qua sopra Guarda quella Guarda quella Ti becca Ti becca Ti ho beccata Ti ho presa Muori Muori E' morto Ma non ho guadagnato niente What Guardate quanti soldi E che cosa compro Questo Le luci Oh Ho comprato le luci Posturiamo qua Il secondo piano Posso comprare Un crates Che non so che cosa sia Posso comprare Un passaggio E ora posso Prendere Un Assalto Subito ci penso Su prendi Eccolo E mo che fai Dove sei tu Mamma mia Come spara sto coso Qualcuno vuole morire Vabbè Tu compra 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 Chi è Mi riparo qua dietro No Come si permette lei Come Risali sopra Risali Buy Butter Royal Skin Posso comprare Una skin Di un Butter Royal Subito Lo faccio Mamma Chissere Vai Compra Così vedo pure Qual è la skin Compra Quale posso comprare Bellissima Quella dell'orsetto Come si mette Cos'è stata Sto trasformazione Certo che Ti calza Pennello Sto robo Dai che ancora Non è finito Compra Clothing shop Quindi se vado qua Non lo so Ah Certo Così posso comprarmi Le cose da mettere Tipo Qua c'è Ritorna Nella tycoon aerea Non ho armi Non mi uccidete Blitz Aiuto Aia Non voglio morire Salta 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 Non resisto Salta Entra qua Proteggiti Direi di comprarmi Un robo Qua che cosa sia Ah E me lo potevi dire Prima no Quindi più drop Creo Più guadagno Eh ma quanti soldi Mi devo fare C'è questa 7000 Una pazza Pure io voglio diventare Ricco Mi insegni Mi insegni La prego Mi insegni Vabbè a sto punto compriamo Un altro dropper Non ho i soldi Non ho i soldi Uffa Prendi i soldi Grazie 4000 Quanto costa il prossimo 5000 Dai Diventerò Il magnate di Ma chi ha il mio personaggio Prendiamo il tattico Voglio utilizzare il tattico Non so Ah ok Tattico per le mani È il momento di uccidere qualcuno Uccidi qualcuno Vai colpisci L'ho ucciso io Non lo so Chi si ne frega Non voglio comprare nulla Cancella Ferirai Ferirai Mamma mia Due colpi Mi ho dato è morto Adesso ti entri in casa Muori Muori Quanto è forte Sto tattico No No Lo voglio Mi sono salvato No Compri il quarto piano Vai No il terzo Scusa Il terzo piano Compra Ho comprato lo scar Vai con lo scar Mi stanno attaccando Chi è questo pazzo Scusate Chi è sto pazzo Che vuole morire Oh Oh Che succede Aiuto Aiuto Oltre a quella skin Ne posso comprare altre RPG E mo mi diverto Ah 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 Allora Uno Ah esplode 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 Per l'inferno E quindi non posso fare nient'altro C'è un tutto Pregredato Cosa devo fare mo Scusa Spara tutti Combiniamo il casino Forza Sparagli Non merita di vivere Non meriti di vivere Maledetto Chi è che tu meriti di vivere Ma se volessi comprare questo che fa Costa soldi Ma perché sto gioco costa tutti i soldi Ma visto che ho ammazzato la mia casa Non è che posso comprare qualcos'altro Compra Compra A lei A lei A lei A lei A lei A lei Ora per dire di essere nato Scappo Dove potete scappare La becco Ah ho capito In base a che tipo di base c'hai Tu ricevi la skin di quella base Io mi son beccato l'orsetto Vabbè Ok ragazzi Io direi che il video di oggi Lo posso anche terminare qua Ho voluto provare questa modalità Perché insomma E' interessante E' nulla Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Lasciate tantissimo I pollicini in su Per il prossimo video Su Roblox Roblox E seguitemi pure su Instagram Guarda il vostro Lorenzista è tutto E noi ci rivediamo Ad un prossimo video Ehi Ciao 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 Grazie a tutti.